Ciao, io mi chiamo Daniela, ho 33 anni e sono di Torino. In questo momento mi trovo nel nostro ufficio operativo a Foggia, dove Intersos dal 2018 porta avanti i progetti sociosanitari all'interno degli inserimenti informali. Io mi sono trasferita a Foggia quasi due anni e mezzo fa per coordinare i progetti sociosanitari all'interno della cosiddetta Capitanata. Come team in questo momento ci stiamo preparando ad affrontare quella che sarà in tutti i sensi la stagione calda per continuare a garantire un servizio, un'assistenza sociosanitaria per tutte le persone straniere che si trovano a vivere all'interno di questi inserimenti che sono contesti molto difficili. Vi ringraziamo per il continuo supporto e speriamo che questo possa continuare nel tempo. Grazie a tutti.